I tempi saranno verosimilmente ancora lunghi, ma l'iter giudiziario legato a un fatto di cronaca che destò enorme scalpore sulla nostra isola è stato in ogni caso avviato. Il prossimo 6 novembre, come sancito da apposito decreto del Pubblico Ministero, otto giovani sfileranno dinanzi al giudice monocratico della sezione distaccata di Tribunale di Ischia. Ragazzi accusati del reato di lesioni gravi perpetrate nella notte del 4 settembre 2022, quando si resero protagonisti di una violenta e folle aggressione perpetrata ai danni di un altro giovane, Enrico Savarese, che fu pestato a sangue e una volta medicato all'ospedale Rizzoli, riportò fratture e lesioni giudicate guaribili in un arco di tempo superiore ai 40 giorni. I fatti contestati si verificarono a pochi passi dalla centralissima piazzetta dei Pini. Il rinvio a giudizio è stato sancito nei confronti di Antonio Bottone, Samuel Fiorentino, Giacomo Monti, Michele Di Costanzo, Vito Buono, Eros Precisano, Enrico Ursomanno e Davide Calise. Adesso, come dicevamo, è stata fissata l'udienza predibattimentale che si svolgerà il prossimo 6 novembre. Per la cronaca, la vittima riconobbe i suoi aggressori nel corso di un singolare confronto all'americana che si svolse nel marzo 2023 all'interno della sede della Compagnia dei Carabinieri di Ischia.